Dalla ultima riunione in prefettura Pescara dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono arrivati 1172 profughi ucraini, 650 adulti e 552 minori, 91 tra 0 e i 4 anni, 326 tra i 5 e i 12 anni, 105 tra i 13 e i 17 anni, 516 le persone ospitate negli hotel, 23 nel centro di Penne, dopo che altre 20 persone si sono ricongiunti ai familiari, come ci spiega Eugenio Seccia, e altre persone sono state trasferite a Teramo. Resta il fatto che Pescara è una città sempre più accogliente e tanti rifugiati scelgono di venire nel comprensorio, anche perché nella vicina Montesilvano c'è l'emporio solidale dove trovare vestiti, generi di prima necessità e accoglienza, mentre a Pescara Porta Nuova si effettuano i tamponi e vengono registrati. Altra questione è l'accoglienza, come vediamo stamattina ci sono anche tante persone qui che stanno facendo il check delle forze dell'ordine, ci sono di là delle persone che stanno facendo i tamponi. E' ovvio che a livello nazionale ci riferiscono che Pescara è una città che funziona sul punto di vista dell'accoglienza e questo ci lusinga. Dall'altro lato ci mette anche un po' non di timore ma comunque di accortezza sul fatto che si sta diffondendo la notizia che Pescara funziona e quindi sono invogliati a venire a Pescara anche altre persone. Per non far trovare intasata Pescara da problematiche amministrative e quant'altro ci stiamo muovendo anche per trovare degli spazi che possono essere come questo di Porta Nuova che potrebbero diventare non più sufficienti per la massa di persone che arrivano dall'Ucraina. Quanti profughi arrivano in media giorno a Pescara? Quanti ce ne sono e dove sono dislocati? Dipende dai giorni, sono comunque oltre 100. Al giorno? Oltre 100 al giorno, tra i 100 e i 150. Il popolo ucraino si distingue per questo, cioè che cerca di, fatte le procedure ovviamente che vengono imposte per tutelare la solubrità del territorio dal punto di vista del virus e dal punto di vista, come vediamo, giudiziario, se così possiamo chiamarlo, si allocano da sole e trovano alloggi presso parenti, amici e quant'altro. Quindi hanno una grande dignità in questa tragedia che stanno vivendo. E a Montesilvano funziona l'Emporio Solidare, come ci dice Marco Scorrano, responsabile protezione civile del Comune. Il nostro Emporio Solidale viene alimentato attraverso le donazioni dei cittadini del Comune di Montesilvano e dei Comuni Limitrofi, che nelle giornate di martedì pomeriggio e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19 possono donare generi di prima necessità e generi alimentari, che poi sempre nello stesso intervallo vengono distribuiti ai profughi ucraini che sono ospitati presso il nostro territorio. Dunque i rifugiati ucraini possono venire anche qui per, come dire, usufruire di ciò di cui hanno bisogno? Per quanto riguarda generi alimentari e generi di prima necessità, sì, è aperto uno sportello, dove sono presenti degli interpreti e degli assistenti sociali dell'azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, che tutte quante le mattine dalle 9 alle 13 sono disponibili per l'ascolto e per assistere i profughi ucraini che sono presenti sul nostro territorio. Presentano delle richieste di generi alimentari e di generi di prima necessità, che poi gli vengono consegnate nelle giornate di martedì e venerdì nel pomeriggio. Rifugiati che vengono accolti un po' ovunque in Abruzzo, grazie al grande cuore della nostra regione, Qui siamo appena al centro Bellini, nell'oasi del lago, dove vengono ospitate soprattutto profughe con bimbi ucraini, come ci dice il sindaco Gilberto Petrucci. È stata una macchina dell'accoglienza straordinaria, molte associazioni, ma anche singoli cittadini, si sono attivati per accogliere i profughi che sono arrivati qui appena al centro di educazione ambientale Bellini. Un centro che si sta davvero riempendo proprio per, come dire, abbracciare questa popolazione che viene da una tragedia umanitaria. Quanti posti sono? Abbiamo a disposizione 40 posti e sono prevalentemente donne con bambini. C'è un nucleo familiare con un bimbo di un anno e vedere i loro visi mi ha davvero, come dire, amareggiato per tanta sofferenza che stanno provando sulla loro pelle. Tra l'altro lì c'è un polo vero e proprio di accoglienza. Sì, il centro di educazione ambientale all'interno della riserva regionale di Penne ospita oltre ovviamente ai profughi anche un CAS per gli extracomunitari già da 4 anni e poi da 2 anni un centro di urno per disabili, quindi un connubio, una grande famiglia che rende onore a Penne.